Ciao a tutti, oggi presentiamo il Camden 20, un nuovo amplificatore valvolare della Sound Session, 20W RMS, riverbero a molla, cono Celestion 680, monocanale con due modalità di gain. La sezione preamplificatrice utilizza due valvole 12X7 e una 12AU7, mentre quella finale utilizza due L84, ci troviamo quindi nel territorio del suono più prettamente britannico diciamo. La sezione comandi è piuttosto semplice ma con alcune sorprese, abbiamo un gain, la modalità di gain, low high gain, i bassi, medi, alti, controllo del riverbero col suo volume regolabile anche tramite foot switch e un master volume. Sui medi abbiamo un controllo push-pull che ci permette di andare ad agire su questa gamma di frequenze. Sentiamo come suona. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.